8 marzo, festa della donna. Già, ma effettivamente che cosa c'è da festeggiare? Siamo nel 2019 e qui al massimo dovremmo solo avere la consapevolezza di ricordare, di pensare e di capire una volta per tutte quanto l'universo femminile, ancora oggi, venga affossato da comportamenti beceri e violenti in tutte le sue forme. Alla Teatro Tretta di Bitonto, proprio in questa occasione Elisabetta Tonon, ha portato in scena I monologhi della vagina, opera teatrale della francese Eve Ensler, portata in scena a Broadway nel 1996 per la prima volta e che ha vinto un Hobby Award. Nelle prime rappresentazioni Eve Ensler recitava i monologhi delle varie donne che condividevano le loro esperienze riguardo alla loro vagina con il pubblico. I monologhi sono stati rappresentati in tutto il mondo e la bravura teatrale di Elisabetta Tonon l'ha fatta conoscere al pubblico di Bitonto. In realtà i monologhi della vagina, di cosa si parla? Insomma, nel titolo è ben esplicitato. Si parla dell'organo genitale femminile, ma di fatto è un testo rivoluzionario nato negli anni 70 ad opera di Eve Ensler e che ha praticamente creato un movimento culturale e sociale grandissimo. Eve Ensler è riuscita prima col suo libro e poi con la sua drammaturgia a sdoganare diciamo tanti stereotipi sul mondo femminile, ad aprire diciamo gli occhi al mondo verso quello che è l'universo femminile e quindi a dare poi forza e voglia alle donne di tirare fuori la loro, come posso dire, la loro non solo forza interiore, ma proprio la voglia di vincere diciamo la disparità di genere che le attanagliava e che ci attanaglia ancora. Per questo i monologhi della vagina sono ancora molto attuali. Un'opera importante inserita anche nel contesto di Io sono mia, il centro antiviolenza Bitontino che opera nel campo del sociale nella difesa dei diritti delle donne, fortemente presente ieri sera in teatro per sottolineare ancora di più quanto fragile e importante sia il percorso di recupero e di aiuto a tutte quelle situazioni borderline di violenza psicofisica. Io collaboro ormai da cinque anni con, cioè sono socia effettivamente dell'associazione di promozione sociale Io sono mia, che si occupa appunto di prevenzione della violenza di genere e di contrastare la violenza di genere e a novembre l'associazione è diventata centro antiviolenza e quindi noi continuiamo nel nostro stile a fare prevenzione attraverso lo spettacolo, attraverso slow mob, flash mob, formazione nelle scuole, fiabe rovesciate, quindi cercando di cancellare tutti gli stereotipi attraverso la cultura e l'arte. Un one woman show da applausi per l'artista di città, supportata da tante presenze che hanno contribuito gratis all'impegnativo progetto.